Avete ricevuto una lettera da Tameli Thunderbiel, la proprietaria della pescheria, che richiede ovviamente il vostro aiuto. Con la guardia cittadina impegnata a proteggere Italia Legna, ha bisogno di alcune anime coraggiose per avventurarsi nel seminterrato del suo magazzino e porre fine alla bestia che si ciba dei suoi pesci. Solo poche ore fa vi siete riuniti nell'ufficio di Tameli Thunderbiel, dove vi ho offerto dieci pezzi d'oro ciascuno, se poteste porre fine a questa minaccia. Era elettrizzata quando avete accettato di aiutarla con questo semplice compito, ma mentre scendete le scale non potete fare a meno di chiedervi se questa potrebbe essere molto di più di un'avventura di quanto vi aspettaste. Appena scendete, al centro della stanza, tra i pilastri che sorregono il seminterrato, ci sono delle botti piene di pesce salato. E soprattutto due di questi barili attirano la vostra attenzione. Sono stati sfondati e rovesciato il loro contenuto sul pavimento. Ma subito nella parete est notate un grande buco che si apre nell'oscurità e subito dopo uno squittio e qualcosa che si sta muovendo verso di noi. Inizia il vostro primo combattimento. Meriziel è la prima che agisce, ma non vedendo niente preferisce aspettare e capire cosa stia succedendo. Dall'oscurità esce un altro ratto gigante che di gran carriera corre verso Valeros e lo attacca per ben due volte, mancandolo. Ezra non ci pensa ben due volte prima di lanciare il suo più potente incantesimo. Scaturisce un arco elettrico che va prima a incenerire il primo ratto gigante per continuare sul secondo, lasciando unicamente un piccolo fumo dalla loro testa. Adesso tocca a Valeros che, stupito dalla potenza dell'incantesimo del suo compagno Ezren, non vuole infilarsi in quel buco perché non sa quanti topi giganti ci possono essere dentro. E allora si mette a urlare qualcosa per cercare di intimorirli, farlo uscire allo scoperto. Dopodiché si sposta davanti a Kiria e alza il suo scudo in attesa del nemico, che puntualmente arriva dall'oscurità e cerca di attaccare Valeros. Manca miseramente entrambi i colpi e adesso tocca a Kira. Prima lancia un incantesimo di frastornare al ratto più vicino che sta infastidendo Valeros, uccidendolo sul colpo. Poi urla a gran voce. Mereziel, abbiamo bisogno di te qua! Ratto gigante a ore tre! L'ultimo ratto si fa avanti e colpisce Valeros, che schiva i colpi e para col suo scudo. Appena Mereziel sente Kira, sa subito cosa deve fare. Circondare il ratto e colpirlo alle spalle. Si muove agilmente e aggira il pilastro trovandosi il ratto colpendolo a morte. Finisce il combattimento e termina la sessione. Nel prossimo video i nostri avventurieri si addentreranno in questo buco. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e se avreste fatto qualcosa di diverso.